Prova generale a Cape Canaveral Un'esplosione, l'Atlas è distrutto, la capsula del Mercury però è stata spinta lontano dal missile prima dell'esplosione Gli osservatori da terra seguono con gli apparecchi ottici il viaggio di ritorno della capsula Nella quale il cuore di stoppa del manichino batte all'impazzata Il paracadute si è aperto, ecco la capsula lunga 3 metri che torna lentamente a terra Non resta ora che far levare un elicottero e il manichino è salvo Dicono che questo esperimento fallisce solo una volta su 10 Il cosmonauta è tranquillissimo, ora per 9 lanci tutto andrà bene Almeno secondo le statistiche